Buone notizie per quelle imprese che hanno intenzione di assumere personale al Sud e in maniera specifica in Puglia. È arrivato il Via Libera alla proroga fino al prossimo 31 dicembre della cosiddetta decontribuzione Sud, lo sgravio sul lavoro che sta dando risultati notevoli in termini occupazionali, come dimostrano le recenti analisi. A dare l'annuncio è stato il ministro per gli affari europei Sud, coesione e PNRR, Raffaele Fitto, al termine dell'incontro avuto a Bruxelles con la vicepresidente della Commissione europea Vestager la proroga di ulteriori sei mesi. Ha tuttavia un limite, l'esonero del 30% viene prorogato al 31 dicembre ma riguarda le sole assunzioni fatte entro il prossimo 30 giugno. Non opera dunque per quelle fatte in data successiva. La misura consiste in un esonero contributivo per le imprese operanti al Sud con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Sono tuttavia escluse dalla decontribuzione aziende del settore finanziario, agricolo e i datori di lavoro domestici. L'agevolazione viene riconosciuta sulla base di percentuali decrescenti e sino al 31 dicembre del 2025 ammonta al 30% che scende al 20 nel bienio successivo, fino al 10% per il bienio 2028-2029. Una misura che ha prodotto, come detto, numeri davvero da record con circa un milione e mezzo tra attivazioni e trasformazioni di contratti di lavoro nel solo anno 2023. La proroga è stata accolta con soddisfazione anche dalla Confindustria pugliese.